Benvenuti a questo nuovo incontro dei racconti da San Giuliano, mi chiamo Mariangela Bruno e quest'oggi vi racconterò la percezione dello sguardo che nel passato si aveva del complesso abbaziale di San Giuliano. Iniziamo quindi con due immagini, sono due rappresentazioni cartografiche. Perché la rappresentazione cartografica? Perché è una raffigurazione con uno stato da della propria entità territoriale verso l'esterno, quando realizza una cartografia, al contempo quando viene realizzata da forestieri, è la percezione di ciò che si è osservato e si vede. Quindi una sorta di, come dire, biglietto da visita da parte di uno stato verso l'esterno al contempo è una percezione vera e propria di come veniva visto uno stato e le sue pertenenze territoriali. Nella prima immagine troviamo Ioannes Battista Vrins che nel 1608 stampa ad anversa questa cartografia, questa carta topografica che realizza Genova, che vediamo ben distinta in colore rosso dalle cinta muraria e poi sulla destra vedete raffigurato il borgo di Alvaro laddove sorge il complesso di San Giuliano. Sulla destra troviamo un'immagine più puntuale, precisa. Viene ad essere disegnata da Francesco Maria Cinelli ed incisa da Giuseppe Benedetti. Questa carta topografica di metà Settecento puntualmente ci mostra non solo il contesto cittadino con le sue mura, ma in particolare ci mostra i diversi borghi che caratterizzavano la Val Bisagno e quindi anche indica la presenza di San Giuliano con addirittura una piccola chiesina stilizzata. Cosa ci raccontano queste prime immagini? Di un luogo marginale rispetto al centro cittadino, quindi isolato, e di un luogo al contempo prospicente il mare. Da qui comprendiamo il motivo per cui nel 1488 questo spazio sul luogo così isolato venne usato per trattenere Niccolò Cibo, arcivescovo di Cosenza, nonché nipote di Papa Innocenzo VIII, comprendiamo anche il perché questo spazio così marginale consentisse alle donne e ai ragazzi di farsi il bagno nello specchio marino antistante San Giuliano. Un aspetto che però ovviamente andava a cozzare con quella che era invece la dimensione spirituale della fondazione religiosa. Ed ecco quindi che già nel XIV secolo si alzano le proteste dei frati, tanto che nel 1307 i frati francescani decidono di abbandonare il sito. Nel 1500 era ancora in uso questa pratica del farsi il bagno nello specchio marino in fronte a San Giuliano e Agostino Giustiniani ci racconta che nell'agosto del 1504 un fanciulla era stato addirittura attaccato e divorato da un pesce cane. Cambiamo adesso il punto di vista alla dazia di San Giuliano, avvicinandoci e osservando più attentamente il suo complesso architettonico. Lo facciamo attraverso lo sguardo di Vincislau Ollar, artista boemo che venne a trovarsi a Genova negli anni Sessanta del Seicento. Quest'artista varca quelle che sono le mura cittadine, si spinge verso il davanti e dedica, tra le diverse vedute che realizza di Genova e del Genovesato, addirittura due vedute a San Giuliano dal Baro. Troviamo questa prima veduta, un punto di ripresa da Ponente verso Levante, dove l'impostazione prospettica è accentuata da questa quinta architettonica posizionata sulla sinistra. Al centro viene inserito il complesso abbaziale che viene descritto alle diverse componenti architettoniche che si assommano l'una sull'altra e intorno è descritta la natura che connota questo scorcio. Mare, alberi d'alto fusto, mura e quindi scogli. Il punto di ripresa successivo da Levante verso Ponente vede invece Vincislau Ollar posizionarsi tra gli scogli per restituire la percezione che si aveva dell'abbazia dal mare. Ricordiamo infatti che all'abbazia si poteva arrivare o scendendo la collina dal Baro, quindi le diverse crese, le viuzze che zizzagando tra orti e mura scendevano fino al complesso abbaziale in un percorso estremamente tortuoso, oppure si poteva raggiungere l'abbazia di San Giuliano attraverso il mare, attraverso un'imbarcazione che costeggiava le coste. Ollar, in questa sua incisione calcografica, raffigura oltre alla natura e alcuni edifici anche due imbarcazioni. Queste due imbarcazioni sono un chiaro riferimento all'usanza del barcheggio che era in uso a Genova in quel tempo. Ne dà testimonianza Anton Giulio Brigno Le Sale nel suo volume L'instabilità dell'ingegno del 1635, quando nella quinta giornata descrive i protagonisti intenti in una disputa intorno a tale pratica e intrattenimento sociale. Altra testazione nobile del barcheggio è l'opera musicale realizzata da Alessandro Stradella, che si intitola proprio Barcheggio e che era dedicata agli sposi Paola Brignole e Carlo Spinola, di cui rende conto in una lettera indirizzata a Flavio Orsini. Il barcheggiare era inoltre codificato nei libri cerimoniali della Repubblica e, come dire, era offerto agli ospiti della Repubblica in occasione di solenne celebrazioni civili e religiose. Abbandoniamo quindi questa pratica del barcheggio, dopo aver però visionato un'immagine d'inizio del Novecento. È un'immagine fotografica che ancora attesta questa pratica delle gite in barca, in prossimità di San Giuliano, che è documentata all'inizio del Novecento. Ci spostiamo quindi a osservare lo sguardo dei religiosi che vivevano all'interno di queste mura e lo sguardo che ci appare è quello di una comunità che era intenta indubbiamente negli esercizi spirituali nella maggior parte del proprio tempo. È Angelo Grillo che abitava questi spazi nel corso del Cinquecento a testimoniare il perdurare della pratica dell'osservanza notturna, ad esempio. Le giornate erano sicuramente scandite, oltre che dalla pratica spirituale, anche dal lavoro e dallo studio, così come prescriveva la regola di San Benedetto. L'ozio è nemico dell'anima, perciò i monaci devono dedicarsi al lavoro in determinate ore e allo studio della parola di Dio. Le mansioni giornalieri probabilmente prevedevano anche il lavorare canestri, trascrivere libri e quindi lavorare la terra. Questa presenza di terreni coltivati è già documentata nel corso del Settecento, dove si precisa che il monastero di San Giuliano possedeva un giardino nella clausura con vigne e piante da frutto e nel terreno selvatico erano posti degli alberi a difesa del giardino dai venti marini. Nel 1846, inoltre, un articolo comparso sul Piccolo Corriere delle Dame, un periodico, si afferma che erano stati disboscati i terreni circostanti l'abbazia riducendoli ad ottima coltivazione. Ancora nel 1859 si ricorda la presenza sul lato nord di un elliveto. Questa cartolina quindi sembra restituirci, una cartolina che possiamo datare agli anni 20-30 del Novecento, sembra restituirci proprio questa presenza di orti e di alberi da frutto che connotano l'ambiente circostante l'abbazia. Peraltro, nel 1914, Ciamedeo Pescio, che ha modo di visitare l'abbazia, ci racconta come fosse connotato il giardino. Presentava infatti un viale di olmi secolari e numerose specie albore come pini e lecci. Presentava inoltre una vigna ancora coltivata dai monaci. Il mura di Cinta, prosegue ancora il pescio, presentava inoltre una grande apertura che consentiva di poter percepire il mare. I principali caratteri quindi che connotano la fondazione religiosa, ovvero l'isolamento e il profondo e intimo rapporto con il mare, si conservano e perdurano per tutto l'Ottocento e sino all'inizio del Novecento, come abbiamo visto. Una descrizione del 1859 Sottolinea come la percezione di quel luogo. Giace il monastero di San Giuliano d'Alvaro, un chilometro circa a Levante di Genova, a piedun colle, su cui passando per la destra delle tre diuzze che si preparano a Levante, giunti a San Francesco d'Alvaro, fatta zigzag fiancheggiata da una cinta di mura in riva al mare che battendo con i suoi flutti contro il muro che serve d'arginamento alla piccola piazza che la sta innanzi produce dei guasti. Ancora quindi alla metà dell'Ottocento, l'abbazia era inserita tra la collina di Alvaro, come abbiamo sentito, i flutti del mare, era divisa tra questi due elementi e quindi per raggiungerla bisognava percorrere queste vie tortuose e scendere dal colle di Alvaro. De Simoni aggiunge a questo, diciamo, percorso che si doveva intraprendere una dimensione olfattiva e sottolinea come l'aria salmastra, il profumo dell'aria marina, si mischiasse alla cume delle erbe aromatiche che aggiungevano dal colle e colle che, digradando, si adagiava, su cui si adagiavano, la chiesa, il convento e l'orto. E qui ci sono questi elementi che vengono sottolineati come elementi cardine di questo tratto di costa. Nel corso dell'Ottocento ancora, nel quinto e quindi settimo decennio e poi ancora all'inizio del Novecento, si riaccende una nuova attenzione su San Giuliano. Si moltiplicano le descrizioni fatte e descrizioni scritte, ma anche le raffigurazioni da parte degli artisti. Quindi mostriamo lo sguardo degli artisti su questo complesso abbaziale. E qui Pasquale Domenico Cambiaso, vedutista genovese dell'Ottocento, ci offre una visione di insieme dove l'abbazia viene inserita come un gioiello incostonato all'interno della costa e l'abbazia viene letteralmente circondata, come possiamo notare, dagli elementi della natura. Un'altra opera di Pasquale Domenico Cambiaso, in questo caso un disegno, ci raffigura invece un punto di vista più ravvicinato, più prossimo al complesso abbaziale. Ed è un punto di ripresa che sembra essere il termine, il punto finale, di quel percorso che vedeva la discesa dal colle attraverso le viuzze, zizzagando tra orti e mura vicinta delle ville, e consentiva l'approdo al mare, quindi all'abbazia di San Giuliano. Vediamo quindi il carboncino realizzato da Alfredo Luxoro, dove in un punto, il punto di ripresa fotografico, enfatizza uno scorcio che vuole mettere in risalto l'insenatura marina e quindi il connubio tra l'abbazia e l'elemento naturale in cui sorge e che viene quindi ad essere descritto. Luxoro non rinuncia poi a descrivere alcuni elementi più, diciamo, quotidiani, l'arbusto che sporge attraverso il muro, in primo piano sulla destra, o ancora i gozzi accatastati sopra alla scogliera che sono raffigurati in primissimo piano. Giovanni Battista Ferrari nel 1884 offre una veduta en plein air di ampio respiro, dove il colore e la luce creano e restituiscono l'immagine solare dell'abbazia di San Giuliano, una descrizione che enfatizza anche questa usanza del barcheggio, si moltiplicano infatti le presenze delle imbarcazioni nello specchio marino, come si può notare. Con il regio decreto del 1873, Genova ha ampli i propri confini amministrativi, oltre le proprie mura. Alcuni comuni suburbani, come San Francesco d'Albaro, verranno quindi inglobati. E da questo momento San Giuliano sarà quindi anche ricompreso nella descrizione della città e dei suoi dintorni che verranno realizzate nelle guide ad uso dei viaggiatori del tempo. Perdureranno però le difficoltà per raggiungere il complesso abbaziale. A questa cosa fa cenno Federico Alizzeri e dice proprio come l'abbazia siede sopra un alto rialzo del ledo, con un l'altro di fronte che nude scogliere, e con povere case alle spalle, ma non disdice che ripigliandoci al diritto cammino io ve ne accenni se un giorno a cagionde di porto o da anche per ventura vi conduceste a vederla. Alizzeri quindi ci fotografa una situazione nella seconda metà dell'Ottocento ancora intatta, nude scogliere, poche sparute costruzioni alle spalle dell'abbazia, ma soprattutto sembra accennare al fatto che la via privilegiata per arrivare alla complessa abbaziale è forse quello dell'approdo marino. A seguito del tracciato sterrato della passeggiata a mare ai primi del Novecento, questa zona della città, questa zona, questa località che comprendeva San Giuliano, entrerà a far parte più propriamente della città. Verranno quindi studiate a più riprese le soluzioni progettuali per raccordare al centro questa area e si arriverà infine alla progettazione, quindi poi realizzazione, di un tracciato stradale che sarà quello di Corsitalia, realizzato nel quarto decennio del Novecento. La collina, quindi, gli edifici e la vegetazione arborea verranno un po' per volta erosi, atterrati per far posto a una strada ampia e pianenciante che cancellerà per sempre la dimensione raccolta e spirituale che sino a quel momento aveva connotato San Giuliano. Possiamo vedere appunto in questa immagine l'avvio delle demolizioni della collina che videro impegnate numerose persone, anche macchinari, per poter aggredire questa natura. Alcune foto, infatti, come questa, documentano l'attività di demolizione. Siamo nei primi decenni del Novecento. Nel giro di una decina d'anni il contesto sarà profondamente snaturato. La torre medievale di San Nazaro verrà demolita, il poggio quartara con le sue piante secolari cancellato e infine alterato e in alcuni casi distrutto il sistema delle crese che scendevano verso il litorale. Il rapporto dell'Abbazia con il territorio circostante perdurerà nel tempo soltanto il legame con il mare, anche se inficiato e compromesso un po' per volta, come vedremo. E vi mostro quest'altra immagine fotografica che mostra il proseguo dei lavori, come fosse stata creata questa cesura tra la collina e l'Abbazia di Vè, quindi questo isolamento dal terreno scosceso che accompagnava quindi la discesa verso il mare per aprire un po' per volta questa strada pianeggiante che consentisse una passeggiata sul mare, di cui siano dotate anche altre residenze balneari. Accennavamo quindi a quello che fu un elemento che andò ad inficiare profondamente questo luogo e fu un po' per volta la presenza dei bagnanti e quindi degli stabilimenti balneari. Il Lido era stato, di Albar, era stato inaugurato, viene inaugurato nel 1908 ad esempio e in questa fotografia di Alfred Nowak di fine ottocento abbiamo un po' come dire delle piccole tracce della presenza dei bagnanti. Vediamo infatti queste tende, queste cabine dove i bagnanti potevano cambiarsi e la presenza anche delle imbarcazioni. ma molto più forte e incisiva è sicuramente l'immagine che mette a punto Giuseppe Mazzoni per la copertina del 31 luglio 1920 della Gazzetta di Genova. Nel 1920 ecco la Bezzia di San Giuliano diventa lo sfondo per il Lido dei bagnanti dove si possono intrattenere sulla spiaggia a conversare oppure immergersi nelle acque per fare dei bagni ai ristoranti. Con la conclusione dei lavori del lungomare di Corsitalia, siamo nel 1935, San Giuliano è pienamente integrato nella vita cittadina, inserita quindi entro un contesto che viene qualificato come zona residenziale e viene quindi a perdersi quella dimensione raccolta spirituale, come si accennava. Viene quindi anche dato una grande spinta, una nuova immagine della città e l'operazione di Corsitalia venne vista come modo per sponsorizzare la città moderna che si ampliava e che si dotava di nuovi assi astradali dove potevano sfrecciare le autovetture. Possiamo sicuramente riconoscere in questo acquerello di Aldo Raimondi una di quelle immagini pensate per enfatizzare e pubblicizzare questa immagine della città nuova e quindi possiamo vedere la sistemazione di Corsitalia che vede la presenza di due corsie, un'ampia passeggiata a mare per le persone, la presenza di queste piante che lo connotano. Come possiamo notare, la Bezzia di San Giuliano, se nella ripresa delle immagini ottocentesche da parte degli artisti era protagonista, ormai è diventato un elemento che fa da sfondo per quello che è il soggetto principale, ovvero la strada che è posta appunto in primo piano. In questo contesto di rinnovo urbanistico, il nuovo effetto stradale diventerà anche il tracciato per vedere gare automobilistiche e motociclistiche. Tra queste ricordiamo il circuito della Superba che vede il suo avvio a partire dal 1937. In questa gara, che prevedeva delle soprastrutture di cartapesto, il legno e il gesso, era prevista una curva, una curva che appunto prendeva il nome dall'Abbazia di San Giuliano, si chiamava proprio Curva di San Giuliano ed era considerata la curva più spettacolare, di maggiore impatto, proprio perché era più, come dire, impegnativa. La vedete proprio ritratta in questo scatto fotografico. Rispetto a questa immagine che vuole celebrare la modernità anche dei motori, delle macchine, dei motocicli messi i quali protagonisti di questa vicenda, si alza una voce dissonante ed è quella di Guglielmo Salvi che nel 1938 scrive un articolo dove ricostruisce le vicende storiche del complesso di San Giuliano e puntualizza come l'apertura di Corso Italia, l'insediamento di stabilimenti balneari, avessero infranto definitivamente l'armonia che connotava in passato questa area e che aveva chiamato numerosi artisti poeti a raffigurarla. L'Azzaro dei Simoni, nel 1948, sottolineerà come poche chiese contribuissero in modo così caratteristico alla bellezza del paesaggio genovese come la chiesa di San Giuliano col molastero e l'orta accanto. Sottolinea in onta come i lavori del tracciato stradale avessero alterato il contesto rispetto a quanto potevano osservare i suoi contemporanei, ai quali la chiesa sembra uscita come per incanto dal mare, ben altro, era lo spettacolo antico se infatti il piano regolatore di Albaro ha conteso il pittoresco edificio al piccone livellatore, l'ha tolto tuttavia da quella cornice che costituiva il principale elemento per cui era caro ai pittori e ai poeti. E quindi dobbiamo ripensare, ritornare al pensiero alle immagini che vi ho mostrato di Pasquale Domenico Cambiaso, di Giovanni Battista Ferrari e quindi di Luxoro. Infine vorrei concludere questa nostra conversazione ricordando quanto facendo Tommaso Pastorino nel suo dizionario delle strade di Genova nel 1968. Ricorda che San Giuliano era situato in una amena posizione che rappresentava uno degli aspetti più caratteristici dalla località del Levante Genovese, al contempo però sottolineava malinconicamente lo stato di abbandono e quindi l'affacciato ormai cadente. Noi oggi possiamo guardare alla Bazzia di San Giuliano con uno sguardo rinnovato grazie ai lavori di restauro che sono stati condotti a termine e che vedono oggi questo edificio impiegato per nuove funzioni. e quindi vi ringrazio per l'attenzione e per avermi seguito e vi auguro un buon proseguimento.